buongiorno bentornati ci facciamo un altro piccolo giro oggi di cartomanzia interattiva come sapete queste sono carte che valgono un po per tutti perché perché non sono fatti non sono fatte a una persona nello specifico ma generico naturalmente non può valere per tutte le persone ma può valere per chi gli capita di vedere il video perciò magari se il fatto il destino ti ha fatto capitare questo video è probabile che per te può avere un significato importante sono alba alba calipso per chi magari non mi conosce è vero che non si vede la faccia ma me io non voglio far vedere la faccia ma le mie mani i miei tarocchi voglio farvi vedere un po tutte le carte come escono e dunque vediamo un po oggi farò una domanda un po forse che non ho mai fatto perché perché andrà a trattare di persone che ci interessano vorrei chiedere se la persona che mi piace un giorno si dichiarerà perché perché magari ti può piacere qualcuno a chi non piaci oppure può piacere a qualcuno che magari a chi piaci ma non te lo ma te lo ha mai detto insomma un po una situazione che può essere da 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 concreto da concretizzare vediamo la persona che mi piace si dichiarerà un giorno allora facciamo così bellissima risposta questa è una carta cioè una risposta che fa capire di sì però ho questa carta vicino che naturalmente un po manda in conflitto tutta questa risposta che vuol dire che molto probabilmente questa persona vorrebbe o si dichiarerà ma non adesso perché adesso è un no diciamo che è il momento per te questa carta che rappresenta questa attesa probabilmente oppure che tu non proprio che non ti fa capire che ha un interesse per te vediamo da queste carte si potrebbe anche dedurre che questa persona prova un sentimento o un'attrazione nei tuoi confronti da un bel po di tempo e però non si è mai dichiarata forse neanche tu io vedo come se siete due persone che si guardano le si piacciono ma o perché magari non è libero o perché tu non sei libera ma giustamente quando parlo di fatto di destino non credo che vi ha fatto conoscere solo per soffrire io ho l'impressione che poi con ritardo questa persona perlomeno si dichiarerà poi non è detto che ci sarà una storia questa persona ti farà capire che è attratta da te ti farà comunque capire che vorrebbe stare con te però magari ci saranno dei tempi da aspettare per poter realizzare questa questo desiderio io qui ho una carta che spiega che la situazione poi si ribalterà del tutto dal momento che ne parla o che si dichiara vedo comunque il desiderio la volontà di fare in modo che possiate poi sentirvi di più vedervi di più non parla ancora di relazione però almeno dell'interesse viene dimostrato e già è meglio poi molto probabilmente almeno da queste carte uno dei due non è libero ecco perché magari è un po un rapporto un po sofferto e ci saranno in futuro delle decisioni da prendere dunque quello che voglio dire non è detto che questa persona con questa persona ci passerai la vita o che è la persona della tua vita però c'è un'attrazione reciproca un piacere a stare insieme o a scriversi a parlare a fare e potrebbe cambiare tutto quando avrete superato gli ostacoli dagli ostacoli vedo diciamo sicuramente una situazione diversa nuova che porta dei miglioramenti futuri però come ho sempre detto le carte non hanno il calendario dunque le carte vedono non hanno tempo vedono le azioni vedono gli eventi però ci sono dei tarocchi qualche tarocco che fa capire le attese dunque se c'è da aspettare molto non molto io non credo che c'è più da aspettare molto da come vedo queste carte qua perché secondo me l'attesa c'è già stata vedo una carta che parla di pause le pause di solito sono breve dunque con ritardo perché magari poteva succedere mesi fa o non so che con ritardo la situazione cambierà questo perché perché si vede che non era il momento giusto non lo sappiamo le cose per andare bene devono capitare al momento giusto perciò la persona che ti interessa e che adesso non si fa capire un giorno finalmente ti farà sapere che gli piace anche tu e che ci tiene a te e che ha dei desideri di creare un qualcosa o di continuare a frequentarti diciamo così io vi auguro una bella storia d'amore se volete approfondire è normale potete chiamare i miei cartomanti è vero che sono io qua che faccio le carte però non ho molto tempo per aggiungere anche i consulti personali o privati ne faccio ne faccio a studio dal vivo a roma se qualcuno vuole venire in studio e gli altri quelli che sono fuori che vogliono chiamare possono tranquillamente chiamare i miei cartomanti perché vi assicuro che sono molto bravi e non lo dico tanto come dicono tante persone per dirlo io so che sono bravissimo da cosa lo vedo prima perché sono tanti anni che lavorano secondo perché so quale quale doti hanno e terzo perché se non sono bravi da me non lavorano è il quarto io vedo che le persone che li chiamano li ricercano dunque se uno ricerca un cartomante vuol dire che si è trovato bene ecco perché posso garantire che sono bravissimi i cartomanti di tarocchi calipso i numeri li trovate un po ovunque anche nel nel mio profilo e oppure andate sulla pagina tarocchi calipso direttamente ovunque di nuovo buona storia d'amore tanta felicità da parte di alba un abbraccio alla prossima